Cari italiani, ho creato questo canale per diffondere il più possibile le verità che, questi infami, ci nascondono. Ho creato questo canale anche per diffondere tutte le magagne che fanno alle nostre spalle, sia a livello nazionale e sia a livello europeo. Questa è l'unica arma che abbiamo per difenderci. La conoscenza è l'unica arma per combatterli e per non essere fregati. Per questo motivo dovete e dobbiamo aiutarci tutti. La vera conoscenza deve entrare in tutte le famiglie italiane per avere una vita migliore. Per questo motivo ti chiedo, per favore, di aiutarmi e di aiutarci. Affinché questa piattaforma social mostri il più possibile i contenuti trattati, è necessario essere seguiti. Per questo motivo ti chiedo di aiutarci. Condividi via WhatsApp il link di questo canale a due o tre tuoi amici chiedendo loro di seguire questo canale. Non ti costa nulla ma sarà un grande aiuto per tutti. A me non interessa avere i seguaci perché non ci guadagno nulla e nessuno mi paga, e sinceramente neanche mi interessa. A me interessa soltanto che più persone possibili vengano a conoscenza della verità. Ne vale la nostra vita e le cose devono cambiare partendo da noi e dalle piccole cose. Fai iscrivere tre amici a questo canale e tutti ne avremo un beneficio. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Raccontiamola tutti insieme. Grazie.